Si è tenuto nella sede della decima municipalità fuori rotta a Bagnoli l'incontro pubblico sul progetto scientifico di trivellazione in programma nell'area Exit al Cider di Bagnoli. All'incontro hanno preso parte Marcello Martini, direttore dell'osservatorio vesuviano, Giuseppe De Natale, coordinatore del progetto e Giuseppe Luongo, vulcanologo. Presente è anche Benedetto De Vivo, il professore di geochimica della Federico II che ha sollevato dubbi sulla pericolosità del progetto. Pericolo, cioè quindi l'eventualità che si verifica un incidente è molto basso perché con la moderna tecnologia oggettivamente si può controllare ma in questa moderna tecnologia il rischio nasce invece dettato dal numero di popolazioni esposte, cioè la popolazione esposta è enorme quindi il rischio è enorme, anche se si verifica un incidente con probabilità 1%, lo moltiplica per 200-300 mila abitanti c'è un rischio enorme. Qualsiasi sondaggio in questa attività tecnologica è diversa dall'altro e quindi si possono essere degli imprevisti, gli incidenti si verificano perché sono imprevisti. Il problema che noi dobbiamo accertarci ed essere sicuri è che non ci siano dei problemi indotti per fenomeni quali il dilavamento di sostanze inquinanti, bolle di gas che potrebbero in qualche modo produrre qualche problema sia al sito di carotaggio che alla popolazione. L'INGV ha commesso un errore di comunicazione di tutta quella che è stata la vicenda, soprattutto con gli enti istituzionali locali, quali la municipalità. Questo territorio già soggetto a bradicismo e a varie evoluzioni vulcaniche non può essere soggetto anche di esperimenti senza le garanzie, quindi questo è fondamentale che emerga dalla riunione di questa sera.